Ciao ragazzi, la festa è iniziata, siamo qui allo Start Up, è un'esplosione di colori e di paesi. Abbiamo trovato in mezzo all'Expo dei Paesi dell'Est un gruppo dell'Italia. Ciao, allora, come vi chiamate e da dove venite? Allora, io sono Gabriele e vengo da Loppiano. Io sono Filippo e vengo da Caserta. Io sono Giorgia e vengo dalla Barca. Io sono Samuele e da Loppiano. Io sono Chiara e vengo dalla Sicilia. Sono Carlo e vengo da Rezzo in Toscana. Viva Milano! Ciao, sono Dario e vengo da Milano. Ciao Dario, benvenuto allora all'Genfest, benvenuti a tutti voi. Ciao a tutti voi! Il tema di questo Genfest è l'Hands Quiz. Cosa significa per te vivere per la Fraternità Universale? Vivere che insieme, tutti uniti per un mondo migliore. Vivere amandoci tutti reciprocamente. Perché così si può cambiare il mondo. Penso anche conoscere gli altri e rimanere sempre in unità con tutti. Trovarsi anni. Cercare di non creare utopie, però cercare veramente di riuscire a legarsi agli altri in modo fraterno e non facendosi la guerra o sfidandosi costantemente. cercando che comunque, alla fine, se c'è unità, c'è possibilità di far tutto. Arricchirsi di tutte queste differenze, di tutti questi popoli diversi e prendere da ognuno qualcosa. È come essere tutti una grande famiglia e quindi essere appunto tutti fratelli anche con persone di altre nazioni. Andare oltre le differenze, avere tanti amici sui quali puoi guardare anche se non sanno dove stai tu. Ragazzi, un messaggio, un saluto per tutti quelli che ci seguono da Facebook, su Twitter e gli altri social network. Grazie!